Siamo con Enrico Buono, Enrico la futura ricorda con un torneo Tony Matera, una persona che per te è significato tanto. Una persona che per me ha significato tanto, ma credo che abbia significato tanto anche per il modo di fare calcio sull'isola dischia. Una persona che aveva una grande passione, una grande competenza e riusciva a toccare le corde giuste dei bambini ma anche dei genitori. Una persona che sapeva fare calcio, il calcio pulito, il calcio che dovremmo fare tutti. Credo che da lui tanti hanno imparato a comportarsi sia sul campo che fuori dal campo. Quindi l'iniziativa nasce proprio per portare i piccoli al campo, perché i piccoli possono essere ad esempio agli adulti che spesso vanno oltre le righe, che spesso non capiscono il vero significato del calcio. Grazie a Tony Matera noi vogliamo portare sia il ricordo di Tony Matera, ma sia il ricordo del calcio pulito sull'isola dischia. Enrico, anche in termini organizzativi avete invitato qualche squadra napoletana, qualcuna isolana e poi tanti campioni. Tra questi ovviamente c'è Franco Brienza, ma ci sono anche altri personaggi importanti. Sì, in effetti la Luigi Vitale ha accettato il nostro invito e io ringrazio la Luigi Vitale, ringrazio Gennaro Monaco che ci ha inviato due formazioni. Poi ci sono le altre squadre di Ischia, che voglio ricordare, l'isola di Ischia, lo Sporting Pants, il Soccer Pants, la società che hanno voluto dare una mano a completare questo bellissimo torneo che è alla sua prima edizione. Tanti genitori, tra l'altro ringrazio anche Franco Brienza che è cugino di Tony, ma è una persona che mi ha dato tantissimo avendo l'opportunità di averlo allenato quando era bambino, è una persona che è rimasta pulita e pura, che ha fatto il calcio importante, però l'ha fatto sempre con l'animo giusto. Quindi un esempio è anche Franco Brienza che sposa appunto questo torneo nel modo migliore. Insieme ad Enrico c'è Ivan, fratello di Tony. Ivan, allora un pensiero su questo torneo organizzato in memoria di tuo fratello? Sì, soprattutto io ringrazio il mister Enrico Buono che ha permesso di ricordare mio fratello, anche le squadre napoletane e tutto il resto. Una bella presenza anche quella di Brienza, che è comunque vostro parente, ma al di là di tutto ha segnato il calcio, il calcio che era importantissimo, ci teneva tantissimo tuo fratello a questo sport. Sì, sì, mio fratello comunque ha dedicato tanto a questo anche Franco Brienza, come anche ha sottolineato il mister, che è cresciuto qui in questo campo dove prima non c'era l'erbetta sintetica, ma era tutto una terra abbattuta. E da lì dobbiamo prendere esempio anche da Franco che si può arrivare lontano. Grazie a tutti!